Benvenuti, io sono Yacke e oggi continuiamo Atlantis, l'impero perduto, la prova del fuoco. Che poi io non ho capito, perché si chiama la prova del fuoco quando è un capitolo a sé, c'è prima la ricerca del diario che abbiamo fatto l'altra volta. Quindi, chi se ne frega, e partiamo. Per spostarti usa contemporaneamente il mouse e i tasti con le frecce sulla tastiera. Sì, sì, certo. Allora, fuga dall'Ulisse. L'Ulisse è all'attacco di un'antica creatura marina e rischia di affondare, non ti resta molto tempo. Devi cercare di fuggire dall'Ulisse usando una delle capsule di emergenza. Non c'è elettricità, devi trovare la stanza del generatore e premere l'interruttore per azionare le capsule di emergenza. Scusate, ma leggendolo così è proprio illeggibile. Devi fare in fretta, perché il livello dell'acqua cresce. Fa' attenzione agli sbuffi di vapore. Vai. Beh, lascia che ti dica una cosa, piccolo. Sono 14 anni che io e la mia squadra rischiamo la vita per trovare questo diario del pastore, per cui ti scaldi e ti agiti così tanto. Ora sei qui con me su questo modernissimo sottomarino, l'Ulisse. Speriamo che quel libro abbia ragione. Secondo il diario del pastore, secondo quanto ci hai detto, l'ingresso di Atlantide deve essere da qualche parte laggiù. Ho la sensazione che questa sia la prima delle quattro prove di cui parla il diario. Credo che sia arrivato il momento di scoprirlo. Sei pronto, signor Touch? No, non sono pronto, ma vabbè, andiamo. Ok, subito controllo i tasti. Vediamo se me li ha salvati o devo rifare. Ah, no, Voasd, perfetto. E li ha tenuti, grandissimo. Vai. Non va bene, non va bene. Oddio, è già... Sì, però... Perché mi devi far incazzare così tanto? Allora... Dai... È aperto adesso. Ma è un figlio di puttana! Che cazzo è successo qui? Che cazzo è successo? Oddio, quando entra nell'acqua diventa tutto buio! No, che cazzo è successo? C'è uno sbocco! Allora... Stiamo imbarchando acqua! Eh, ma dai! È qua? Usciamo da qui! Ah no, forse no, devo solo uscire. Eh sì. Eh no, ma porca! Madonna! Ah no, ma porca! Qui, uno vomita per il mal di mare, l'altro gli viene una crisi epilettica per questi flash. Eh, tua madre! Per spostarti usa con... Porca puttana da capo! No, la seconda parte è un disastro. È proprio un disastro. Meglio prendere le cazzole! Ma intanto c'è il blocco, non so perché. E fa il muro invisibile. È un muro invisibile, certo. Ottimo. Ok, qua per forza su. E questo è quello lì? Non c'è più elettricità e siamo isolati. Va a poppa del sottomarino e accendi il generatore d'emergenza. Ah, come si accende? Stiamo imbarcando acqua! Oh, sono talmente veloci che... Che proprio non è... Oh! Ah, ok! L'ho già premuto! Ma vaffanculo! Eh, ora devo tornare indietro! Solo che adesso non... Non c'è l'acqua adesso. Ho capito! Oh, vaffanculo! Sarà tipo buggato allora, perché c'era l'acqua che non doveva esserci. Fuga con la capsula di emergenza. L'Ulissi è stato affondato dal gigantesco Leviatano. Per attraversare la caverna sottomarina a bordo della capsula... Ok. Distruggi tutte le larve che incontri. Non farti prendere. Ok. A quanto pare sei uscito sano e salvo dall'Ulissi. Segui questa caverna sottomarina fino in fondo, ma sta attento. Le altre capsule riferiscono della presenza di strane creature che potrebbero essere le larve del mostro che ha affondato il sottomarino. Porca. Porca puttana. Ma è taff. 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 A quanto pare sei uscito sano e salvo dall'Ulissi. Eccolo là. Sì, ma è incontrollabile. Eh, tiff. Distruggi le larve del Leviatano e fa attenzione ai tuoi compagni. Oh mio Dio. No, trovo sottile lì. A quanto pare sei uscito... Eh, sei uscito dal culo. Oh, io provo. Distruggi le larve del Leviatano e fa attenzione ai tuoi compagni. Eh, provo a fare le mie abilità di guida. Vediamo, dai. Corri di qua. Vai su. Vai su. Vai su. La sensibilità... Ma no, non è vero. Non è vero. Ma quanto pare... Ma la nostra è una stessa di cazzo, però. No, secondo me è l'unico. Perché sparare... Eeeh... Morto, sono morto. Sono morto. Perché sparare... Dai, anche qua. E non l'ha presa. Non l'ha mica presa. Perché è una testa di cazzo. Ok. Dai, però. Sì, dai, rallento ogni tanto. Quando devo passare qua. Tanto il... E' lì. E' lì. E' lì. Tam. Tam. Oh, cazzo. No. Figlio di puttana, no! Scudino! Prendilo! Puttana! Dai, dai! Piano, piano, no! C'è un Leviathan, no! Voglio gli scudi, io! Cazzo, ci passo? Puttana! No! No! Madonna! Qua ce n'è un altro! No! La puttana! Ma dov'è che ho preso dentro? No, 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 no. sono indietro, l'ho sentito, l'ho sentito no, 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 scappa forza è che qua è la fine Esplorare le caverne Esplorare le caverne Fai molta attenzione Ci sono le creature simile agli insetti Porca puttana Basta che non corrono Raccogli il raggio rimbalzante Il raggio restringente Il getto di fango Per portare a termine la missione Con successo Usa il raggio restringente Per rimpicciolire le creature Oh bello Ok Vai 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 Il cazzo di insetti sono Abbiamo incontrato delle creature simili a insetti Perciò sta allerta Ci deve essere un ingresso per questa città perduta Forse il tuo diario può aiutarci a trovarlo Premi il tasto J Ok 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 Ok